buona giornata amici da massimo foghetti oggi è lunedì 29 novembre 2021 iniziamo insieme una nuova settimana leggendo i giornali di prima mattina a partire dal corriere adriatico e il resto del carlino passiamo però attraverso il santo del giorno e poi le condizioni meteorologiche vediamo chi è il santo san saturnino di tolosa san saturnino fu tra i primi missionari inviati dal papa allora si chiamava fabiano a evangelizzare le gallie visse nel terzo secolo ai tempi dell'imperatore decio ma fu catturato dagli idolatri che persistevano nel praticare il culto pagano e fu anche martirizzato la sua morte fu particolarmente drammatica perché fu legato ad un toro trascinato per le vie della città di tolosa di cui era vescovo finché il suo corpo fu straziato letteralmente appunto per le botte ricevute passiamo ora alle previsioni del tempo vediamo la cartina della nostra regione il tempo è ancora molto molto variabile vediamo che ci sono nuvole ma c'è anche un po di sole la giornata è ancora instabile nelle marche con piogge da prima a sud e dentro il pomeriggio anche al nord apparirà anche la neve tra i 400 e 600 metri di altitudine fa freddino dobbiamo dire le temperature sono in calo vediamo che la minima raggiungerà i 4 gradi e la massima gli 8 quindi insomma non c'è molto divario tra l'una e l'altra però noi ci riscaldiamo dando un'occhiata ai giornali veniamo al corriere adriatico e si parla in apertura di una spedizione romana dell'assessore regionale alle infrastrutture francesco baldelli fanno grossetto dateci quattro corsie l'assessore baldelli e ha incontrato il ministro giovannini e ha presentato uno studio sui flussi di traffico su questa arteria la regione punta ai piedi non vuole un completamento a due corsie ma lo vuole a quattro così come è stato realizzato nel tratto che è in funzione ovvero la fanno calmazzo la superstrada quando sarà completata ridurrebbe di 115 milioni di chilometri i percorsi dei pendolari la cifra di milioni è per quanto riguarda l'andirivieni roma ci ascolti e questo è l'appello che fa appunto l'assessore e l'assessore baldelli la fotonotizia è dedicata allo sport è il pareggio della vis la vis ha pareggiato uno a uno con il montevarchi la vis si fa valere e sfiora il corpo peccato un'azione avrebbe potuto far guadagnare i tre punti alla squadra pesarese le tre notizie a centro pagina candele a candelara già 5.000 visitatori nel primo weekend a fanno però c'è stato un atto di vandalismo contro il presepe del pincio e a marotta tensioni nella notte all'esterno del mio scatta un arresto per quanto riguarda la sanità vediamo che per la somministrazione dei vaccini all'ex arresto di pesaro per i tanti prenotati si sono così formate lunghe file e si sono elevate tante tante proteste vediamo l'interno l'interno vediamo subito l'articolo che riguarda la spedizione romana dell'assessore regionale baldelli la e 78 con due bretelle rivoluziona la viabilità il ministro ci ascolti l'assessore baldelli ha portato a roma uno studio sui flussi di traffico delle nuove strade solo per i pendolari tagliati 115 milioni di chilometri ogni anno necessarie quattro corsie e lo studio commissionato dalla regione sulla fanno grosseto ha messo in evidenza come il completamento dell'arteria dovrebbe ridurre il tempo medio di viaggio del traffico pendolare sui tragedi interregionali e interprovinciali di oltre 40 minuti pensate pari al 30 per cento e del 20 per cento sui percorsi tra ancona pesaro fano e urbino inoltre consente un risparmio di 115 milioni di chilometri percorsi ogni anno ed abbatte le emissioni di co2 di 220 mila tonnellate all'anno pari all'anidride carbonica assorbita in pari tempo da un milione di alberi abbattuti il completamento di questa strada di cui si parla ormai da decine e decine di anni sarebbe veramente una manzanta per quanto riguarda l'economia del territorio ai collegamenti con le città del tirreno foglia il ponte ciclopedonale sarà allestito nell'estate del 2022 c'è stata una dichiarazione congiunta ieri da parte del sindaco di pesaro ricci e del dirigente severini i tempi della linea 11 della bicipolitana sono stati illustrati dalle dirigente in commissione la struttura verrà montata nel mese di maggio e poi si parla anche delle cavalcaferrovia dei capuccini oggi sul corriere adriatico per quanto riguarda pesaro e il cavalcaferrovia intitolato a giorgio de sabata un altro ponte un asse viario strategico per la città di pesaro sarà al centro del consiglio comunale di questo pomeriggio appunto è il cavalcaferrovia giorgio de sabata intorno al quale sono arrivate per fare chiarezza sui lavori due interrogazioni una del consigliere malandrino e una della lega alle quali sarà chiamato a rispondere l'assessore belloni vaccino è il caos dei non prenotati Alex Risto somministrate 672 dosi caos alle 11 di ieri le dose Pfizer hanno iniziato a scarseggiare ed in 282 si sono presentati senza avere chiamato erano i non prenotati i quali poi si sono mischiati con i prenotati ed è successo veramente il caos tutti in fila anzi in doppia fila per farsi il vaccino che sia prima o terza dose aperta anche gli over 40 ieri all'ob dell'ex Risto di Pesaro non faceva troppa differenza insomma tutti hanno aspettato è stata una vera corsa alla vaccinazione effetto questo del conto alla rovescia per il 6 dicembre prossimo quando entrerà in vigore lo sappiamo tutti ormai il super green pass e poi vediamo come questa situazione cerca di così insomma cerca di rispondere alle esigenze di quelli che si stanno per vaccinare siamo costretti a osservato una volontaria del lab ad interrompere il flusso dei non prenotati e diverse decine dovranno ritornare alla prossima apertura ad inizio settimana oppure a prenotarsi per evitare le code insomma è sempre consigliabile consigliabile la prenotazione Vallefoglia siamo ancora però a Pesaro e parliamo di Candelara 5.000 persone in due giorni sabato e domenica mascherine e pass buona la prima nonostante possiamo dire le mascherine e il pass il green pass l'afflusso è stato veramente eccezionale il borgo delle candele torna così a essere protagonista al primo spegnimento erano presenti 1200 visitatori insieme due giorni emozionanti questa iniziativa continua ad attrarre veramente tante persone sulle colline di Candelara i primi numeri dell'evento prenatalizio con 30 bus in due giorni e capienze nel rispetto delle regole anti covid per gli eventi circoscritti non hanno comunque deluso le aspettative dei volontari che si sono impegnati nemmeno la pioggia del primo pomeriggio di ieri ha così frenato le visite si un po le ha ridotte ovviamente ma non ha impedito a moltissime persone di assistere allo spegnimento dell'illuminazione e la passeggiata itineraria itinerante nel borgo così illuminata da queste fiammelle che danno un aspetto assai suggestivo a tutto il contesto storico a tutto il panorama a urbino a urbino si parla ancora dei detenuti che vengono che sono laureati sono quattro i detenuti già laureati è una opportunità pure per i docenti lo dichiara daniela paiardi che è la referente del polo universitario penitenziario regionale è associata di psicologia giuridica e penitenziaria lo studio universitario in carcere è una sfida è una opportunità per tutti i detenuti ma anche per i docenti e le istituzioni locali e l'intera società insomma chi è in carcere può avere un riscatto studiando e quindi conquistando una laura che può essere molto molto utile una volta che verranno appunto liberati sulla pagina di fano si parla di eventi natalizi però c'è un problema che si è verificato nella giornata di ieri anzi veramente un atto inqualificabile è stato danneggiato pensate a poche ore dopo l'inaugurazione degli eventi natalizi con l'accensione dell'albero sabato sera in piazza 20 settembre il presepe che i carristi fanesi hanno realizzato al pincio con una nuova giunta rispetto all'anno scorso ebbene un vandalo ha rotto il braccio di san giuseppe ha infierito sul drappo che la madonna tiene sulle ginocchia dove ha adagiato il bambino e hanno tagliato un orecchio ad una pecorella poverina lucarelli l'assessore agli eventi reagiremo a questo gesto ha detto il presepe è controllato da una telecamera il video sarà esaminato dalla polizia locale e intanto prende il via il villaggio di natale ebbene dopo questo atto inqualificabile un atto vandalico che non ha ragione per le cause che è stato per cui è stato fatto fa da contrapunto la bellezza di questo villaggio natalizio che è stato allestito al pincio veramente un villaggio di natale non vi sono prodotti estrani questa volta al pincio magari questi ultimi sono stati un po' spostati verso via arco d'augusto ma la bellezza la cura dei particolari sappiamo che l'opera è stata realizzata dalla proloco e dall'architetto stefano seri che hanno curato molto bene l'illuminazione la dislocazione delle casette e appunto la vendita dei prodotti sono prodotti natalizi peccato che la pioggia ieri pomeriggio ha impedito ai cultori del gusto ai pasticceri fanesi di fare quella performance con i bambini che avrebbero dovuto mettere le mani in pasta per realizzare dei dolci ebbene se ne riparlerà però per le prossime festività comune aset dalla cis le critiche ingiuste e infondate il comune l'aset risponde alle dichiarazioni che il sindacato ha fatto nei giorni scorsi per l'aumento delle bollette dell'acqua la bolletta dell'acqua fanese è la più cara di tutta la regione marchi e per il pagamento della tari e dell'irpef comunale che pesano assai dopo che il caro vita è aumentato in modo in modo particolarmente gravoso e quindi pesa molto sulle famiglie indigenti insomma a comune aset si giustificano però il problema rimane intanto oggi a partire dalle 9 30 nella cascina di delle rose la cisle organizza il congresso dei pensionati bandiera blu lido e arzilla tagliati fuori anche nel 2022 non saranno compresi nella domanda del comune che presenterà alla fe per l'inquinamento del torrente e purtroppo nemmeno la cassa di colmata della zilla questa cassa di prima pioggia scusate non di colmata è riuscita a risolvere il problema ed ora si procede con un monitoraggio lungo la risalita del torrente per vedere dove inizia l'inquinamento e qui intervenire magari per chiudere quegli scarichi abusivi che poi riversano molta molta sporcizia nelle acque dell'arzilla piazza marcolini la lega appoggia la petizione contro il progetto no al taglio delle piante e anche dei posti auto insomma il parcheggio e le le piante di piazza marcolini dovrebbero restare in sito anche nel progetto di riqualificazione dell'amministrazione comunale vediamo anche la pagina di senigallia bufera per il post dell'assessore bizzarri la vediamo nella foto l'assessore al bilancio ilaria bizzarri che avrebbe così dichiarato posto un post sul web clima d'odio come i tempi del nazismo e tirare in ballo questo nazismo l'olocausto eccetera per così fenomeni che accadono al giorno d'oggi insomma è veramente una cosa impropria se non velleitaria diciamo così l'opposizione dunque sorge all'attacco propaganda da negazionisti novax lei replica era solo una citazione cercano dei like però insomma è una dichiarazione di cattivo gusto chiedeva soldi sul corso via il finto clochard raggiunto dalla polizia è allontanato dalla città alle spalle aveva vari precedenti si tratta di un quarantenne romeno che sabato chiedeva soldi con insistenza ai passanti in corso due giugno a senigallia ed ora veniamo al carlino di pesaro sulla pagina di pesaro vediamo la sintesi in prima pagina asur 36 novax senza stipendio sono le persone sospese e sono a casa da ottobre perché non si sono vaccinate si tratta di medici infermieri e oss insomma sono quelle persone che hanno veramente insistito a non fare il vaccino e quindi lo stanno pagando con le proprie tasche mi ha violentata dentro il ristorante un quarantenne in manette l'uomo è accusato dalla fidanzata e dalla socia poi vediamo l'episodio della renco che inaugura una mega centrale in armedia è un progetto veramente importante 255 milioni di euro il suo costo e la fotonotizia dedicata invece ai problemi che sorgono nel trasporto scolastico per quanto riguarda la salita degli studenti busse tamponi ed è già protesta le due notizie riportate a fondo pagina riguardano lo sport un pineto sbarrato l'almafano non passa e pareggia la visse non sfrutta la palla della palla della vittoria e pareggia anche la visse insomma le due squadre della provincia quelle più importanti ovviamente si accontentano di un punto in classifica vaccini al ristò anche il carlino interviene sulle proteste per le file che si sono verificate per le vaccinazioni da 100 dosi pensate si è passati a 600 e della carica dei ragazzini che si stanno vaccinando apriamo il giornale obbligo vaccini preoccupano più i contagi secondo i presidi degli istituti superiori pesaresi vediamo riccardo rossini vediamo riccardo rossini del liceo marconi roberto lisotti del liceo mamiani e chiara fiorucci dell'istituto agrario riccardo rossini dice a metà settimana avevo 18 casi però sono saliti a 21 in un giorno serve una strategia per lisotti entro il 20 dicembre potremo avere tutta la documentazione di chi ha fatto il siero e per chiara fiorucci che è la preside ripeto dell'istituto agrario qualcuno dei dipendenti si sentirà costretto ma è una piccola percentuale insomma i presidi alle prese con le novità dal 15 dicembre ma sono i positivi nelle classi che premano perché il virus è velocissimo e si propaga con grande con grande facilità busse e tamponi l'odissea di studenti e genitori una mamma alla fine mia figlia farà la dose gli over 12 non immunizzati per salire sui mezzi pubblici diretti a scuola dal prossimo 6 dicembre in teoria dovrebbero fare tre test a settimana insomma dal 6 dicembre la vita si complica veramente un po per tutti i primi e capirlo sono i genitori con i figli tra i 12 e i 17 anni perché perché dal 6 dicembre prossimo e fino al 15 gennaio ad un minore che abbia dai 12 anni in su serve il green pass di base cioè quello che si ottiene a seguito di un tampone rapido dall'esito negativo serve per salire sull'autobus che lo porta a scuola quindi l'adolescente ovviamente quello over 12 non vaccinato che va a scuola con i mezzi pubblici pure il sabato teoricamente nel rispetto delle 48 ore di durata dovrebbe fare il vaccino dovrebbe fare il tampone ogni lunedì mercoledì e venerdì insomma veramente una situazione complicata virus aggressivo tra gradara e gabice questa la zona in cui emergono più positivi il distretto di pesaro con i comuni di confine registra il 58 per cento degli infettati di tutta la provincia un terzo non è vaccinato e quindi ci sono degli appelli uno dei principali si rivolge ai tanti che si sono fermati alla prima dose perché facciano subito il richiamo cioè la seconda dose e la direttrice elisabetta esposto la direttrice del distretto di pesaro annuncia la riapertura per tre sabati della palestra gradarina per ovviamente fare il più possibile le vaccinazioni asur sospesi 36 novax sono medici e infermieri e numero complessivo dei dipendenti lasciati a casa da ottobre ad oggi hanno disatteso all'obbligo di immunizzarsi rientreranno solo vaccinandosi e poi una commissione ad hoc sta esaminando ogni settimana i casi incompatibili col ruolo insomma se ci sono veramente delle ragioni di carattere sanitario perché questo non non accada allora in quel caso lo stipendio viene dato altrimenti non è possibile e poi anche il carlino evidenzia la carica dei 700 ieri all'ex aristò con proteste la metà senza prenotazioni molti rimandati via e dovranno tornare mi ha violentata nel nostro ristorante e questa è l'accusa di una donna nei confronti di un quarantenne pesarese che ha mandato al pronto soccorso la fidanzata e socia in affari domani l'uomo sarà interrogato la donna è stata anche picchiata fino a dover ricorrere appunto alle cure del pronto soccorso il pesarese in questione ha già dei precedenti una condanna per violenze sulla prima moglie è un processo ancora in corso per percosse e lesioni nei confronti dell'ex convivente quindi un uomo violento e questi episodi fa strano sorgono proprio il momento in cui si sta celebrando anzi si è ormai celebrata la giornata internazionale per la violenza contro la violenza delle donne tante le manifestazioni che si sono svolte un po' e in tutte le città e vediamo che a Fano proprio ieri mattina si è svolto un flash mob degli uomini in scarpe rosse Fano scarpe rosse contro la violenza un'iniziativa simbolica ha commentato l'assessore alle pari opportunità Sara Cucchiarini ma significativa perché si faccia strada la consapevolezza collettiva che è un problema degli uomini quello della violenza nei confronti delle donne ma comunque nonostante tutte le iniziative di sensibilizzazione sembra che questo fenomeno non voglia diminuire per quanto riguarda i casi di violenza politica torna in scena la del bianco Caterina del bianco vediamo qui la sua fotografia il suo viso simpatico Caterina si era dimessa da assessore alla cultura non molto tempo fa però oggi torna a fare politica e si inserisce nella lista di Tommaso del Moro candidato alla segreteria fanese l'ex assessore della giunta seri si candida nella lista del PD a sostegno di Tommaso del Moro e qui vediamo anche tutta una serie di nomi che sostengono appunto questa candidatura e si pongono anche come candidati alcuni di loro nella segreteria del maggior partito della coalizione amministrativa di maggioranza ieri a Fanui sono verificati due incidenti ferito un ciclista investito da un'auto un incidente stradale ieri mattina intorno alle 9.30 all'altezza della rotatoria di via Pertini ovvero l'interquartieri e via 4 novembre un Opel condotta da un fanese di 52 anni che percorreva appunto l'interquartieri verso Pesaro giunto alla rotatoria non ha rispettato lo stop andando a sbattere contro una Hyundai condotta da un 59enne di Fano nessun conducente delle due auto ha avuto bisogno di ricorrere alle cure mediche e poi un secondo incidente è avvenuto alle 11.30 in via Roma alla intersezione con via 2 Giugno in questo caso sempre una Hyundai guidata da un'albanese di 22 anni di San Costanzo ha ortato una bicicletta condotta da una fanese di 44 anni mentre percorreva via Roma con direzione Montemare la ciclista però in questo caso ha dovuto fare ricorso al pronto soccorso dell'ospedale di Fano a frontone ambientalisti protestano contro la mafia della montagna sono appunto coloro che vorrebbero che il paesaggio montano restasse sempre integro e non fosse invaso da strutture oppure da infrastrutture che snaturano un po' il panorama appunto montano erano una sessantina di persone delle associazioni ambientaliste che hanno steso uno striscione così menzionando un'ipotetica mafia della montagna il sindaco però reagisce parlate senza sapere quello che dite informatevi ha dichiarato che tristezza e queste sono le notizie che pubblicano oggi i giornali apriamo un attimo anche lo sport e parliamo dei due pareggi delle squadre della provincia visse pari a Marognolo con il Montevarchi l'occasione di battere per la prima volta l'Aquila e ridare lustro alla classifica è svanita all'ultimo minuto di recupero che peccato per quanto riguarda i biancorossi e vediamo anche la pagina che riguarda l'Alma vediamo se la trovo vediamo se la provo dovrebbe essere questa sì la prima frazione è stata vissuta in equilibrio l'Alma ha pareggiato anche la sua partita parla mister Banchini aspettavamo il loro calo ma nel primo tempo non siamo riusciti a fare quello che avevamo preparato vediamo un attimo no ho preso un articolo sbagliato questo è l'articolo che riguarda l'Alma domina ma non sfonda pari utile contro il Pineto e Granata giocano una partita all'attacco senza però riuscire a conquistare i tre punti Capellacci deve accontentarsi e abbiamo anche una dichiarazione di Capellacci era una partita che temevamo ha dichiarato non abbiamo sfigurato potevamo fare meglio in quanto dobbiamo migliorare nel ritmo e nella condizione atletica ebbene comunque un risultato pari per le due squadre di casa sono sempre punti utili per la classifica in chiusura vi ricordo che oggi pomeriggio alle ore 18 ci sarà su Fano TV l'appuntamento con la casa di Babbo Natale i bambini possono chiamare a Fano TV telefonando al numero 0721 86 14 33 e questo veramente è tutto Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani alle ore 7 buona giornata a